. Noi sono di notte, per un giorno dell'estivata di Rodese. Di notte le paesi di Ludolfini, ho connessione con l'anno passato, ma lei si è una grande banda ossitana. La grande banda è la mia casa per casa. Sono amici, abbiamo mandato, per una festa di cannavese, sempre in gruppo, abbastanza numeroso. Mi sono amici, che suonano la Piedro d'Uso. Abbiamo pensato sempre di amici, gli strumenti tradizionali, che normalmente si suonano nella musicosità, come la viola, la piva, gli flauti, gli epifere, gli armoni, e sempre gli strumenti della banda. Allora, l'aglio clarino, l'aglio sassofano, l'aglio basso tuba. Abbiamo fatto un po' questi strumenti, questo gruppo, che hanno un po' un'idea della banda, ma che fanno delle balli. Abbiamo fatto, gli è abbastanza grosso, gli è abbastanza un elefante, quindi facciamo un po' bene di cose, ma in un certo anno li facciamo sempre, perché non mandiamo un'animazione di via, o come si fa di grossi balli. e funzionano un po' parecchio, le tre anche. Le hanno una formazione a geometria variabile, lo diciamo. Oppure, se sono 8, 9, 10, anche 15, 16, dipende un po', se sono un po' più attacca a mezzo, siamo più di gente, se no, se si fanno un po' più snella, se fanno un po' meno di persone. Quindi lei, in un bando, ha diverse esperienze musicali, anche dal passacarriere, dal passacarriere, dal passacarriere, dal passacarriere, dal perro d'uso, dal dal film, ma ci sono anche tanti strumenti diversi. Allora, noi non approfittiamo dalla formazione musicologica, e noi domandiamo quali strumenti che sono più tante. Da che tradizioni arrivano? Quali sono più tipiche di un'altra ballata? Quali sono di un'altra successiva? Allora, diciamo che in Val Clujung e San Martin, come suona la Curento, la Bureo, la danza di noi altri, si suonava negli ultimi 50-60 anni, ad esempio, l'Uklarin e l'Armoni, perché molte persone suonavano nella band, e poi gli facili una formazione un po' più piccita per fare la musica da ball. Allora, l'Uklarin, l'Armoni che fa l'accompagnamento, certo aveva cambiato un po' più soldi per un paio di terzo, e spiegavano anche io che suonavo il bass. Poi, abbiamo bisogno sempre, anche altri strumenti, che sono arrivati, erano già prima, ma sono arrivati nell'ondo dei revival della musica popolare, l'Uklarin, l'Uklarin, l'Uklarin. L'Uklarin, Val Clujung, era sicuramente una tradizione abbastanza un po' tanto, e da noi suonavo con l'Uklarin, non lo dovremmo fare, perché non formarsi un parere, l'Uklarin è abbastanza difficile da far sentire. Allora, comunque, gli ha l'Uklarin, gli ha la corna musa, la piva. Non dovremmo la corna musa francese, ma nel territorio dell'Italia ha set tipi di corna musa di pivo differente. Gli ha la buco, gli ha la budego, gli ha la musetta dei centri della Francia, gli ha la cabretto, gli ha la ciabretto dai limusini, non abbiamo bene e continuano a inventare di nuovo. E poi, gli ha gli strumenti della banda, proprio perché sono più tipiche della banda, appunto come l'Uklarin che avevano detto prima, lo sassofono, certamente avevano anche il trombone, e il basso tubo, lo strumento. Abbiamo posto la storia del... E poi, ovviamente, dovremmo anche la percussione, e per questa occasione abbiamo anche due persone, Paola Bertello e Luca Pellegrino, che cantano anche, quindi facendo spettacoli. facendo un bel città, diciamo, come idea. Ecco, l'estivata, vi accogliono dal sito dell'estivata, gli ha scritto che vi sono un po' l'assumo di tutto ciò che fanno ancora nella Valade d'Ossitana, da Piemonte. C'è una definizione o poi è un po' un riassunto di soli capitoli? Sì, diciamo abbastanza, perché comunque, mille, più che vinti anni, che ho lavorato a Bolo Dalfin, per Simone Lombardo, che ha fatto diversi gruppi, Luca Pellegrino, se li contiene tutti, tutti gli gruppi che sono, gli gruppi che li avevano fatto, che arrivano da due gruppi. L'interessante perché queste esperienze, per me, debiutano sempre dalla varia esperienza, gli ha dei gruppi più acustici, gli ha dei gruppi più tradizionali, gli ha dei gruppi più rock, come Ludalfini, gli ha dei gruppi che hanno più proprio un suono e un colore della banda, come la Piero Dussu, perché gli ha vieno dei strumenti della banda. L'interessante è lavorare per cercare di fare un suono, che può essere proprio un'invenzione di musica nuova, ma comunque è un discorso un po' differente rispetto alla media di tutti gli altri gruppi che sono e sul territorio che hanno usato, che è la nostra idea. domando un caro, e un caro che non serverebbe forse con la riflessione che non continuano a Pumarello, il 27 di Stembrandt in convegno della musica uscitana, domando, secondo te, come si può definire la musica uscitana? Soglie che fai della produzione musicale di un gruppo di musica uscitana? Secondo me, la cosa fondamentale dovrà la lingua uscitana. Penso che sia Danudis nel patuano, ma che tu sia un gruppo che fai dei pop, dei ragamuffini, che sia un gruppo che fai di musica tradizionale, un gruppo che fai del rock, penso che tu puoi mandare la musica uscitana se tu canti in usitana. Allora, Danudis viene dei canzoni, delle vecchie canzoni spogliare i cosi, e creare le belle, fa di nuovo creazione, inventare delle cose nuove, creare dei testi in au, e poi, insomma, la lingua, se come un po' la la clau per dire le musica uscitana. Quindi, la resto, le abiti differenze, le greglie differenze, ma la lingua, la cosa fondamentale per dire le musica uscitana. e a proposito del musica uscitana, una domanda di salutare la gente della Valada dicendo di un luogo che puoi trovare a Ludolfini nei prossimi giorni, perchè usare un calendario che la Valada Valdesa è abbastanza denso. Allora, domani, infatti, mi sono in questo momento perché vado a dormire, anche se sarà difficile che vado a dormire vita, perché sì, le belle, le belle, le belle, le affetto, le fai plaseite. Comunque, domani a noi a Villar, a Villar Perosa, a partita da Eura, e per il primo luglio, che è l'inverno, come sveglio, a Torre Pellice, per il festival una torre di libri, che dargli fuoco dove io venivo, e poi, avevo qualche problema, usano mandato sostituire una buona volontà, perché, sia in Val Criusone, che in Val Pellice, ma comunque, sia in Val Criusone, che in Val Pellice, le belle, usano sempre volontà, perchè le belle, le belle, le belle, le belle, le belle, le belle. Ebbene, allora, a Villar, e poi alla Tura, nei prossimi giorni. Ciao a tutti.